Buongiorno a tutti, oggi è il primo giorno di zona rossa, l'abbiamo già sperimentata ma in una maniera completamente diversa a quella che c'era a marzo e aprile. La zona rossa di oggi permette in realtà di adottare dei comportamenti più svariati, perché sappiamo che due persone possono andare a trovare all'interno del territorio della regione altre persone, che possono essere amici, parenti o indifferenti, quindi la mobilità da questo punto di vista c'è, infatti lo si vede anche in giro, abbiamo visto parecchio traffico questa mattina, ciò non toglie che il senso di responsabilità deve comunque portarci a comportarci in un certo modo, quindi cercare sempre di evitare tutte quelle occasioni di possibile contagio. Una in particolare, devo dire, visto che ci sono ancora file, a quanto sembra, davanti ai supermercati o pescherie, il fatto di tenere una fila distanziata, tenere una fila distanziata alle casse, perché sembra una banalità ma in quel momento la distanza può essere molto ma molto inferiore, soprattutto all'interno dell'esercizio, quindi non cambia nulla perché il tempo di attesa è sempre quello, quindi il consiglio, il vivo consiglio è quello di tenere la distanza di sicurezza anche in queste situazioni qua, non vi porta via tempo ma vi può portare una sicurezza in più. Fatelo presente anche alle altre persone, in modo garbato, in modo educato e insomma si spera che questo non faccia scaturire la ipersensibilità da parte di altri, però ritengo che sia una questione, una misura di sicurezza in più che non comporta nessun sacrificio per voi e per gli altri. Grazie e buon Natale a tutti. Grazie a tutti